Nella storia di questo comune, di questi ultimi tre anni, quando si è tolto un albero non si è ripiantato e quando si è ripiantato si è fatto male. Quindi il rischio qual è? È che togliamo quei lecci, che intanto sono un pezzo di identità di questa città, ormai è un secolo che sono lì, ma al di là di questo, che è una questione magari qualcuno può dire sentimentale, c'è un problema di fruibilità di quell'area. Non tagliate i lecci del Porcinai. Forse si intitolerà proprio così la petizione pubblica con cui il gruppo consigliare del Partito Democratico di Arezzo cercherà di impedire il taglio degli alberi che da sempre campeggiano nei giardini del Porcinai ad Arezzo. Il taglio, che sarebbe stato imposto dalla sovrintendenza, è previsto nel progetto di riqualificazione che il comune di Arezzo sosterà con i finanziamenti stanziati dal governo Gentiloni Renzi. Al posto dei lecci saranno piantati dei tigli, ma secondo il PD questa riqualificazione poteva prendere un'altra strada. Quell'area ha quelle caratteristiche lì, quindi viene utilizzata per attività di socialità perché è un giardino, ci sono le panchine, c'è l'ombra. Il rischio di togliere quei 62 lecci ha un valore di patrimonio storico e anche paesaggistico, ma dall'altra parte rischia davvero di chiudere una serie di attività di socialità perché quell'area diventerà un'aiuola. Questa è la questione centrale. Noi promuoveremo in questi giorni una mobilitazione popolare, una raccolta di firme, abbiamo già tantissime persone che si sono dichiarate disponibili a darci una mano e l'idea è quella poi di chiedere all'amministrazione comunale di cambiare questo progetto perché noi siamo assolutamente d'accordo che quell'area va restaurata, ma dall'altra parte non è pensabile che il restauro passi dal taglio di 62 lecci che sono parte ormai integrante dell'identità della città.